le 7 e 20 minuti bentrovati bentornati buon inizio settimana buongiorno da marina luzzi buongiorno da peppe gandelli e gisberto nicoletti in regia alex britti 7mila caffè al nostro pezzo dal passato e sono quelli che ci servono per inaugurare questo lunedì riniziare la giornata e la settimana soprattutto al meglio lunedì è sempre difficile ma noi insomma siamo qui per tenervi compagnia e per rendervelo un po più leggero leggendo i giornali con le interviste con la bella musica siete su cittadella la radio 96 5 nfm se ascoltate la radio se siete in auto oppure potete anche vederci potete farlo scaricando l'app di studio 100 o guardandoci su studio 100 punto it oppure c'è anche il canale 98 se siete in provincia di taranto o se siete a bari batte brindisi buongiorno bentrovati a tutti anche oggi tanti argomenti partiremo con lo sport avremo come sempre il nostro francesco friuli poi parleremo di cittadella della carità ci sono delle novità effettivamente positive ve le abbiamo raccontate nelle edizioni dei nostri giornali nel weekend e insomma la principale è che sembra appunto esserci nuovamente suave neuromed sulla strada appunto che porta ad evitare il falimento di cittadella ma ne parleremo più tardi con mimmo sardelli segretario della funzione pubblica cgl di taranto e poi la situazione degli abitanti di via galeso ricorderete questi abitanti questi abitanti di questo palazzo che nove mesi fa per problemi strutturali all'edificio da un momento all'altro sono stati costretti ad abbandonarlo purtroppo dopo nove mesi per molti di loro sono 22 famiglie è quasi una sessantina di persone ancora non è possibile trovare una nuova sistemazione c'è un contributo abitativo che viene dato dal comune ma non basta e sono persone appunto che non vivono condizioni economiche floride quindi diventa veramente complesso andare a vivere altrove nel frattempo continuano ad arrivare le bollette di luce e gas e quindi la nostra valentina castellanieta negli scorsi giorni è stata con loro in sit in sotto palazzo di città e chiedono un incontro urgente al sindaco o a un suo delegato insomma vogliono una mano un aiuto e capiremo insomma come è finita questa storia che credo che ci vorrà ancora parecchio perché possa trovare una lieta conclusione poi avremo come sempre giovani guarino con le sue gocce di memoria parleremo oggi molto importante con sabrina morea sabrina morea che noi conosciamo come lady eventi perché insomma è lei che guida le fila di spazio porto e comunica tutti gli artisti tutti coloro che arrivano da queste parti ma prima di spazio porto tanta esperienza nel mondo della notte come dj artista e quindi ce l'avremo qui perché perché oggi si inaugura una nuova trasmissione su studio 100 si chiama 120 e quindi presenteremo con lei questo programma che nasce ci racconterà di questa nuova avventura poi ce ne andremo a manduria perché sabato nel tardo pomeriggio di sabato c'è stata l'inaugurazione del parco archeologico delle muragre che quasi 3 milioni di euro di finanziamento feste finalmente insomma un gioiellino del nostro territorio torna ad essere fruibile al pubblico e poi parleremo di teleperformance italia che è diventata una società benefit che cos'è e cosa cambia ce lo faremo raccontare insomma tutti questi gli argomenti di oggi devo dire parecchi come vedete sono sola non c'è il buon casula si è preso un giorno di relax ma torna domani quindi non temete che domani la coppia si ricongiunge nel frattempo andiamo a vedere cosa ci dicono i giornali di oggi oggi tocca a me alzare questa saracinesca virtuale per fortuna del virtuale altrimenti avrei fatto fare al buon peppe candelli di fronte a me allora la gazzetta del mezzogiorno prima pagina nazionale i nomi degli spiati ecco chi sono i 30 pugliesi finiti nella rete dei dossier c'è pure la moglie di jacobini junior ne mirino la russa quindi si parla di questa ennesima vicenda che riguarda conti spiati insomma sembra ancora più grave dell'altra di quella famosa del bancario di cui parliamo insomma una cosa completamente diversa a quanto pare c'è anche il commento del direttore della gazzetta del mezzogiorno mimo mazza è un attacco alla privacy di tutti gli italiani ci sono spioni e spioni inizia così appunto l'attacco del suo editoriale l'inchiesta della direzione distretto alle antimafia di milano con i suoi 60 indagati e la gravità impressionante delle presunte condotte illecite da essi compiuti deve allarmare tutti noi più di quanto avvenuto ecco appunto lo dicevo neanche a dirlo più di quanto avvenuto con il caso striano il luogotenente guardone sul quale ha acceso da tempo riflettori la procura di perugia o con la vicenda coviello il bancario barese curioso quindi situazioni completamente diverse evidentemente anche gravità molto diverse andiamo a vedere cos'altro dice nelle sue pagine interne che riporta in prima gazzetta amati le mie priorità imprese scuole ospedali neossessore e il dialogo con emiliano poi flop di giulia al museo maxi ma la meloni blinda il ministro polemiche sulla gestione del museo maxi di roma da parte di alessandro giuli ora ministro della cultura nucleo vigilanza ambiente il prefetto ferma la regione non può avere una pulizia niente armi poi ci sono le notizie dalla provincia e c'è spazio ovviamente come sempre ampio per lo sport su la prima nazionale di gazzetta mentre sulla prima di gazzetta di taranto ambulanze fantasma nuova indagine sotto accusa per truffa all'aslo due rappresentanti legali di una ollus di palagiano e poi si parla della crisi della mitilicoltura il governo intervenga il nodo delle cartelle salariali come sapete insomma le alte temperature hanno distrutto buona parte del novellame e tante famiglie si ritrovano adesso veramente in difficoltà la questione di cui abbiamo parlato tanto è tornata nuovamente sotto riflettori per un servizio del tg1 degli scorsi giorni e si torna appunto a parlarne per cercare di capire come aiutare questo settore e poi anche qui si parla del parco archeologico che riapre adesso splende di nuova luce dopo anni di restauro i moderni corpi illuminanti consentono anche suggestive visite notturne questo è tanto altro su gazzetta noi ci fermiamo ascoltiamo della bella musica quando torniamo proseguiamo con i nostri giornali proseguiamo e torniamo sui giornali di oggi lo facciamo con l'edicola del sud l'apertura parla sandrino io fuori dalla politica leccese e la forgia mi chiesero i voti l'ex leader di sud al centro trasformismo per me accuse inopportune nessuna sfida alla magistratura e quindi insomma queste sono le parole di sandrino cataldo è l'ex leader appunto di sud al centro e poi a proposito di centro andiamo alla fotonotizia che proprio al centro della pagina giunta veleni sul mini rimpasto spuntano firme false contro amati in regione e fabiano amati rientra in giunta al fianco del governatore emiliano e poi ancora ipm indagano sul mercato dei dati ira di meloni la cherella sui fondi di sviluppo e coesione la puglia è regola ma senza fondi ex ilve il caso in commissione poi a roma e ancora mancano le autostrade basilicata ko quindi la prima si sposta anche appunto sulla basilicata l'incidente anziano travolto e ucciso adesso è caccia al pirata e è successo non nella nostra provincia però insomma continuiamo a raccontare di queste di queste vicende andiamo a vedere cosa ci cosa ci dice invece no quotidiano di puglia sulla prima pagina dedicata a taranto l'apertura è sempre regionale spiati e temuti pericolosi anche alcuni noti imprenditori pugliesi nell'inchiesta sulla compravendita di dati riservati dalle carte dell'inchiesta alla quantificazione del giro di affare degli hacker 3 milioni di euro e poi la proposta di orsini di confindustria proroga per il pnr parlamentari scettici adesso l'obiettivo è usare bene i fondi emiliano e de caro mosse a carte scoperte stefanazzi la si scelga la regione tra equilibri e voto poi le nomine per la regione mini rimpasto e tensioni in nodo azione e poi parla dell'inoci miglioreremo sul reddito energetico ma non è flop al centro si parla di exilva verso l'intesa con un nuovo intermediario finanziario per i crediti per 100 milioni nuovo paracadute per l'indotto nel pezzo di domenico palmiotti che trovate a pagina 8 c'è anche un riferimento alla situazione degli autotrasportatori che continuano a non gradire insomma le proposte avanzate da acciairie d'italia rispetto alla loro situazione cozze il caldo killer l'allarme verso il 70 per cento sos novellame poi si parla della differenziata carta e cartone plastiche metalli rifiuti si cambia da novembre ve lo abbiamo accennato nelle scorse puntate ci torneremo per capire anche come ci si sta organizzando insomma per nei quartieri dove si inizia appunto la differenziata seriamente e vedremo insomma come come andrà è evidentemente necessario che venga fatto però vespa 10 anni all'ireni e nuova cantina la festa a manduri all'inaugurazione innamorato della puglia e poi a san giorgio solo auto in regola c'è l'occhio del targa system oggi come sapete non c'è il correre del mezzogiorno quindi non abbiamo aperto col correre del mezzogiorno che insomma l'inserto locale regionale del correre della sera non c'è taranto buonasera quindi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa quando torniamo parliamo di taranto di calcio di tutte le novità dentro e fuori dal campo con francesco friuli bentornati bentrovati questa è buongiorno taranto di buon mattino e eh siamo insieme fino alle nove come sempre a quest'ora è tempo di sport in particolare di calcio ma forse non solo ce lo facciamo dire da francesco friuli buongiorno francesco buongiorno buongiorno marina e buona settimana a tutti francesco allora com'è andato questo weekend sportivo e poi ovviamente non possiamo non fare riferimento al bonifico insomma arrivato a questi famosi duecentocinquantamila euro che eh nel weekend eh insomma sono state una delle delle notizie ora bisogna capire come procede questa avventura per eh il nuovo eh acquirente del taranto o verso questa nuova proprietà del taranto allora io partirei dei risultati sportivi rapidamente sicuramente la mh l'introduzione di questa giornata seppur ha giocato sabato è per la Prisma che ha vinto per 3 a 1 contro Grotta Zollina vincendo uno scontro diretto in casa serviva per la formazione ionica per portarsi con sei punti di vantaggio e lo scontro diretto a favore proprio con Grotta Zollina e questo significa che il taranto ha messo un primo buon mattoncino per la salvezza seppur siamo a un terzo del campionato però è chiaro che avere due partite di vantaggio con ripeto lo scontro diretto a tuo favore vinto per 3 a 1 significa tanto brava la Prisma a riprendersi nel secondo sette e soprattutto nell'ultimo quando l'ha vinta 29 a 27 hai vantaggi brava la Prisma siamo contenti della nostra squadra di volley anche perché è quella che ci dà insomma la soddisfazione della serie A e non ce lo dimentichiamo mai esattamente Marina va sottolineato questo perché comunque abbiamo una squadra in serie A e quindi ce la dobbiamo difendere con le nuvi e con i denti. Per il taranto 0 a 0 contro la Turris ha giocato 50 minuti del taranto con l'uomo in più è stata una partita molto brutta e qui diciamo nel primo tempo brutto secondo il taranto non è riuscito a trovare il gol che poteva portare la formazione ionica almeno a 9 punti. Non è più ultimo il taranto in classifica perché dietro c'è la Juventus next gen però ricordiamo che il taranto subita la penalizzazione per via del ritardo nel pagamento degli stipendi che è sì che è arrivato in settimana con il bonifico di Mark Campbell che dicevi probabilmente il taranto cercherà di chiedere una clemenza di pena visto che comunque ha pagato seppur il ritardo visto il passaggio societario non sappiamo però se verrà applicato questo da parte della giustizia sportiva resta il fatto che c'è un pericolo. Il pericolo è che il secondo ritardato pagamento il 16 di dicembre escluda il taranto dal campionato perché comunque il ritardo c'è stato. La trattativa si era parlato di un closing in due settimane. La prima settimana sarebbe passata o le due settimane partono dal bonifico questo è il primo interrogativo. Secondo la fondazione Taras nelle prossime... potrebbe avere una nuova call. La fondazione Taras che parte in causa nel senso che ha delle poi l'ignoranza in società come altri soci. Call sì o no nella giornata di oggi lo capiremo. L'ultima notizia clamorosa di ieri sera invece riguarda Varena, un giocatore del taranto, ha giocato per 72 minuti e uscito dal campo dopodiché dopo la conferenza stampa praticamente del taranto, ha dato un lungo messaggio, ha mandato un lungo messaggio su un social network, vale da considerarsi non più un giocatore del taranto. Il suo ritiro dal calcio, scusa non ho sentito bene. Si è ritirato. E l'ha fatto con un messaggio sui social dopo aver giocato? Esattamente. Ho capito. 72 minuti ha giocato e siamo di magari ci ripenserà perché fondamentalmente quanto vale un posto sui social, il tempo di una cosa di pancia. E abbiamo avuto conferme che il ragazzo non giocherà. Ho capito. Va bene. E in tutto questo purtroppo dobbiamo chiudere. Mi sarebbe piaciuto commentare anche l'addio di Capuano al Foggia. È un amore che è durato. Vedremo se vengono respinte le dimissioni oggi. Capiremo se ci sarà un incontro chiarificatore con Canonico. Magari insieme a Campbell torna anche lui. Che dici? No, è impossibile. Campbell? A Taranto? No, no, dico magari insieme a Campbell, diciamo insieme a questa nuova proprietà potrebbe tornare anche Capuano. Impossibile questa cosa. Stiamo parlando, cioè sto parlando così ad alta voce, non c'è nessuna... No, 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 è fatto bene, è fatto bene. È bello anche parlare ad alta voce. Però io dico sempre un passaggio. Io vado sui fatti. Il 16 di dicembre è una data determinante. Se Taranto non paga viene radiato. Quindi tutto quello che possiamo parlare da oggi fino al 16 dicembre è capire se la trattativa va a buon fine, risolvere gli interrogativi che ancora oggi ci sono e soprattutto pagare quelli che sono gli stipendi e i contributi il 16 dicembre. Altrimenti tutto quello che è stato detto fino ad ora vale come lo zero spaccato. Grazie per essere stato con noi a Francesco Friuli e buona giornata a te. Buona giornata a tutti voi. Noi siamo qui per tenervi compagnia, per raccontarvi quello che accade in città e in provincia. Questa è Buongiorno Taranto di Buon Mattino. Siete su 96.5 in FM di Radio Cittadella ma anche se scaricate l'app di Studio 100 ovunque da qualunque dispositivo oppure su www.studio100.it infine il canale 98 se siete in provincia di Taranto oppure se siete a Bari, Batte e Brindisi. Torniamo a parlare di attualità. Lo facciamo parlando della vertenza cittadella della carità. Oggi il sit-in alle 10 fuori dalla struttura ma sembrano esserci delle novità positive. quantomeno qualcosa sembra muoversi. Ne parliamo con Mimmo Sardelli, segretario della funzione pubblica CGL di Taranto. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti. Dunque Sardelli, sabato insomma si è diffusa la notizia di questa voltura da Cittadella della Carità, da Fondazione Cittadella della Carità a Soave Neuromed da parte del Dipartimento Salute della Regione Puglia che è un passo che può sembrare in qualche modo decisivo verso l'acquisizione da parte di Suave Neuromed o sbaglio. Potrebbe essere una bella notizia per tutti i lavoratori di Cittadella. Diciamo che è un raggio di sole in un contesto dove c'era molto buio. Che cosa sono la cultura degli accreditamenti? E' il passaggio da un soggetto economico, quale è Fondazione Cittadella della Carità, a un altro soggetto economico dell'autorizzazione a prestare attività sanitarie. Quindi era l'elemento che mancava per realizzare il famoso affitto di ramo d'azienda tra i due soggetti. Ora, è indubbio, era una precondizione per sbloccare la situazione. Tanto più che ce l'ha stato detto chiaramente nell'incontro col Vesco che non c'erano piani a piedi. Ora, detto questo si pone un problema ulteriore. Come in concreto questa operazione si concretizzerà? Quindi il tipo di servizio che verrà erogato, i nuovi assetti societari, e consentiteci per quanto riguarda noi come organizzazioni e sindacali anche le ricadute occupazionali e salariali sui lavoratori. Io voglio ricordare che questi lavoratori sono in arretrato di due mensilità ordinarie di metà tredicesima 2023 e del premio di produzione e soprattutto vivono in un contesto di profonda incertezza sull'ora futuro. Quindi, da parte nostra, moderata soddisfazione per ciò che è avvenuto da parte della Regione che è un elemento imprescindibile. Ma la mobilizzazione rimane sia per l'aspetto salariale, che non è secondario. Io vi posso garantire che l'altra sera abbiamo fatto un'assemblea molto pesante perché i lavoratori sono in grossa difficoltà con le loro famiglie. Ma anche sul futuro, perché è chiaro, lo diciamo con chiarezza, se qualche soggetto economico pensa di utilizzare questa situazione di difficoltà per fare operazione di macelleria sociale, troverà i lavoratori, le lavoratrici e anche le organizzazioni sindacali estremi oppositori a qualunque operazione di questo tipo. Per noi due sono i cardini. Salvaguardia dei livelli occupazionali e il rilancio della mission della cittadella in un territorio che ha forte domanda di prestazioni sanitarie. Sardelli, oggi è previsto un incontro anche con la Fondazione, o sbaglio? È calendarizzato un incontro per le 16.30 del pomeriggio. Però da notizie della giornata di ieri non si comprende bene se e in che misura questo incontro si svolgerà. Per noi è fondamentale incominciare a capire, in concreto, come si articoleranno i prossimi giorni che sono decisivi. Anche perché la delicatezza e la gravità della situazione non può tollerare ulteriori rallentamenti. Anzi, al contrario, bisogna definire quanto prima possibile il tutto. Nei prossimi giorni si viene anche in Regione. Mercoledì mattina è confermato il sit-in sotto la presidenza della Regione Puglia. Sperate di essere in quell'occasione ascoltati anche in Regione, dal Dipartimento Salute o da altri interlocutori credibili? Assolutamente sì, perché noi vogliamo che la Regione, che già ha fatto un pezzo importante di quello che doveva fare con la voltura degli accreditamenti, svolga una funzione di garante in tutta l'operazione. Voglio ricordare che i cittadini hanno servizi sanitari in accreditamento col servizio sanitario regionale. Quindi la Regione Puglia deve essere garante della correttezza e linea e realtà di tutta l'operazione. Ora, sia chiaro. Noi lo diciamo in maniera chiara. Noi non accetteremo che quella della cittadella sia l'ennesima crisi risolta di questo territorio. Non molleremo di un centimetro. Va bene, chiarissimo. Grazie per essere stato con noi, Memo Sardelli, segretario della Funzione pubblica CGL di Taranto. Ovviamente continueremo ad aggiornarvi su tutto quello che accade rispetto all'avvertenza cittadella. Buona giornata. Buongiorno a tutti. Ben tornati, buongiorno. Questa è Buongiorno Taranto di Buon Mattino. Siete su Radio Cittadella 96.5 in FM, ma anche su Studio 100. Infatti vedete che trasmettiamo proprio dai nuovi studi di Studio 100. Siamo in Via Polibio. Ben trovati. Buongiorno da Marina Luzzi e da Peppe Candelli e Gisberto Nicoletti in regia. Torniamo a parlare degli abitanti di Via Galeso 98. Nove mesi fa sono stati costretti a lasciare da un momento all'altro le loro case per problemi strutturali all'edificio che abitavano. Nel frattempo ancora per molti di loro la situazione non è risolta. Sono 22 famiglie, tranne in un caso tutte le altre anche con il contributo abitativo del comune di Taranto non sono riuscite a trovare una nuova sistemazione. Purtroppo per avere un affitto nuovo sembrerebbe non bastare che il comune faccia da garante, ma per esempio nel caso della persona che ha trovato una nuova sistemazione a fare da garante sono stati figli. Sono persone che comunque non vivono una condizione economica stabile e florida e quindi trovare qualcuno che dia loro fiducia non è facile. Al contempo continuano ad arrivare le bollette che devono pagare. Valentina Castellaneta venerdì era in sit-in con loro ha raccolto la storia di Clara in grassia. Vediamo. È arrivata la bolletta della Tari e quando a noi non dovrebbe arrivarci perché abbiamo un'ordinanza del sindaco di sgombero quindi io non ci risiedo. Io personalmente ho staccato anche la luce quindi non ho luce, non produco spazzatura ma mi è arrivata la bolletta della Tari. Clara in grassia è una dei 55 abitanti della palazzina di via Galeso che nove mesi fa fu evacuata a causa di danni strutturali dell'immobile. Era il 31 gennaio gli inquilini dovettero prendere tutto quello che gli era possibile in meno di tre ore dalle loro case perché con un'ordinanza il sindaco intimava lo sgombero. Da allora non sono riusciti a trovare un posto dove vivere perché i locatari non accettano il canone con rimborso. Unica misura a disposizione del comune per aiutare queste persone. Abitano da amici e parenti qualcuno è costretto a dormire in macchina ma le bollette continuano ad arrivare. Clara racconta di essere andata all'ufficio comunale di via Anfiteatro dove un dipendente comunale l'ha aiutata a compilare un modulo a cui allegare l'ordinanza. La promessa è quella di cercare di evitare che queste persone paghino almeno questa tassa ma la situazione non cambia loro non riescono a trovare un posto dove vivere. Quando la possibilità vada in un B&B per non pensare sempre sulle stesse persone e quindi sono soldi che io esco con mio marito pensionato da due anni che pensavo che le tamiere mi cotevano conterci la pensione e invece no. Non c'è solidarietà da nessuna morte. Noi non cerchiamo di sacchiccusa l'alunno, i soldi, la casa bella, la villa. No, un po' di solidarietà. Non si sa ancora quando le 22 famiglie potranno rientrare nei loro appartamenti i rilievi dei tecnici sembrano essere terminati ma la burocrazia ha dei tempi lunghi e per effettuare i lavori ci vogliono dei permessi. Che noi la faccio sul parco del Mar Piccolo cosa che io non sapevo di avere un parco alle spalle e quindi come l'ingegnere ci dà tutta la relazione tecnica facciamo l'incontro con la ditta sapremo i termini dei lavori e il quanto ci viene a costare a noi perché tutto ha spese nostre in quanto il palazzo privato è proprietario. Buongiorno, questo è Buongiorno Taranto di Buon Mattino siete con Marina Luzzi dall'altra parte del vetro ci sono Peppe Gandelli e Gisberto Nicoletti siamo insieme fino alle 9 e adesso ce ne andiamo a Manduria per l'inaugurazione del parco archeologico delle Mura Messapi che era un momento molto atteso dalla comunità ma direi molto atteso in generale da Taranto e dalla sua provincia perché è veramente un gioiello e ci sono stati dei lavori di restauro importanti vedrete anche dalle immagini la partecipazione che c'è stata a questo momento sentito dalla comunità e il servizio di Giuseppe Di Mai dopo la riapertura al pubblico è arrivata anche l'inaugurazione ufficiale per il parco archeologico delle Mura Messapiche di Manduria rinato a nuovo splendore grazie alla riqualificazione da 3.800.000 euro di fondi europei gestiti dal segretariato regionale del Ministero della Cultura pannelli illustrativi percorsi senza barriere strisce luminose per effetto by night e cosa non da poco nuove scoperte archeologiche come spiega la responsabile unica del progetto Maria Franchini intervenuta alla follata conferenza di presentazione l'intervento ha interessato anche degli scavi archeologici in particolare la valorizzazione del fossato della prima cerchia attorno alla porta est dove è stato messo in luce il muro in blocchi squadrati che rivestiva la cinta quindi da un punto di vista archeologico anche l'area vicino alla stazione ferroviaria è stata scavata con un saggio che mantiene a vista l'assetto delle mura 16 ettari di mura megalitiche fossati e necropoli datati tra il V e il III secolo a.C. a cui si aggiungono la cripta bizantina di San Pietro Mandurino e l'antica fonte con il miraculum dell'acqua caro a Plinio il Vecchio il parco torna a nuova vita tra una danza di vestali e un rito di fondazione attorno al mosaico realizzato dall'artista Antonio Vestita con la comunità intanto è all'orizzonte il nuovo bando per la gestione di questo e degli altri beni culturali di Manduria con l'amministrazione comunale orientata a un affidamento di 4-5 anni gravato di nuovi oneri per il gestore il sindaco Gregorio Pegolaro ci deve essere un piano finanziario e in base al piano finanziario si vedrà che cosa fare da una parte potrebbe essere anche una gestione autonoma dal punto di vista finanziario dal nuovo gestore oppure un contributo anche da parte del comune ma la manutenzione diciamo ordinaria e quello che servirà per tenere in ordine i beni musei e parco archeologico riedrà nelle competenze del prossimo gestore Buongiorno, ben trovati Buongiorno da Marina Luzzi Buongiorno da Peppe Candelli e Gisberto Nicoletti in regia questa è Buongiorno Taranto di Buon Mattino su Radio Cittadella e su studio100.it e tutte le altre modalità prima fra tutte scaricate l'app di Studio 100 e quindi da Smart TV o da qualunque altro dispositivo potete seguirci ben trovati buongiorno noi adesso diamo il benvenuto ad un'amica un'amica insomma che spesso ci capita di intervistare ma che oggi sentiamo per un altro motivo perché da oggi si inaugura una nuova avventura qui su Studio 100 quella di 120 e protagonista perché sarà lei a condurre le danze di questo programma è Sabrina Morea ciao Sabrina buongiorno buongiorno Marina buongiorno a tutti e buongiorno a Radio Cittadella e a Studio 100 prima di tutto un grande in bocca al lupo per questa nuova strada che inizia oggi immagino che sarà emozionata ma col tempo anche entusiasta perché le cose nuove portano sempre emozioni ma anche entusiasmo guarda ti dico sì anche se solitamente io parlo sempre di quest'ansia quando faccio le cose che anzi è creativa è città nel senso che comunque quando sei portata a organizzare a fare insomma pensare al pubblico a rivolgersi agli altri ovviamente c'è sempre la preoccupazione che le cose vadano bene che siano fatte bene che piacciono e quindi tutta questa ansia creativa oggi è tornata ad impossessarsi di me e anche in maniera piuttosto importante visto che è la prima esperienza diciamo televisiva anche se da anni insomma in qualche modo bassi con gli ambienti eh certo direi da più di qualche anno Sabrina dalle 17 alle 18 di oggi e per ogni lunedì insomma sarai con 100 eventi qui dagli studi di via Polibio di Studio 100 che trasmissione sarà dacci qualche anticipazione di come l'hai pensata beh comunque è una trasmissione che innanzitutto come mi piace dire cercherà di alleggerire e rendere più piacevole l'inizio della settimana nel senso che parlando di eventi di ciò che accadrà nel corso dei sette giorni non solo su Taranto provincia ma anche nei dintorni diciamo l'idea di poter fare qualcosa di poter partecipare a qualche evento sicuramente insomma aiuterà un po' a rendere più piacevole il lunedì e poi ovviamente all'interno oltre a parlare di eventi di ciò che accade di ciò che ci propone il territorio ci saranno anche degli occhi ci sarà la musica e mano a mano ovviamente sarà tutto in costruzione perché sicuramente molte idee ci verranno ecco certo ci puoi già anticipare qualcuno degli ospiti di stasera o se c'è qualche ospite stasera oppure lasciamo alla sorpresa guarda lo posso anticipare perché è una persona autorevole in quanto organizzatore di eventi e sto parlando di Michelangelo Busco un grande amico nonché il direttore del teatro comunale Fusco e poi una persona che come me da anni si occupa di organizzare grossi eventi sempre con un occhio particolare e con un grande amore per il territorio e quindi sarà qui con te oggi dagli studi studio 100 brava hai inizi col botto dai bell'ecco eh certo lo immagino poi come dicevi tu è giusto ed è interessante farlo di lunedì e non magari di venerdì perché così si ha tutto il tempo di pensare compro questo biglietto forse il prossimo weekend posso fare questo posso fare quello contattare gli amici per organizzare un gruppo ed andare tutti insieme ad assistere insomma ad un concerto o un altro tipo di evento quindi è bella l'idea di farlo di inizio settimana non solo perché come dicevi tu aiuta a pensare arriverà anche il prossimo weekend e sopravviverò a questa settimana ma anche eh sì perché è il pensiero del lunedì però ci sono anche degli eventi che ormai vengono insomma si tengono di martedì è certo è anche bello informare su ciò che il territorio propone non soltanto nel corso della settimana ma anche teatrale culturale e quant'altro quindi insomma mano a mano il nostro calendario si arricchirà sempre di più per cui comunque avremo tanti amici che insomma verranno oppure quando saremo in contatto per lanciare quelli che sono gli eventi organizzati nelle singole attività sicuramente non possiamo dire non lo potevamo dire prima ma ormai davvero non lo possiamo dire che a Taranto non ci sia più nulla da fare perché davvero non si sa come dividersi nel corso della settimana se si ha voglia di partecipare ad eventi culturali dalla musica al teatro come dicevi tu al cinema sì sì ma poi col tempo questa trasmissione coinvolgerà anche diciamo altre attività nel senso che per evento ovviamente non è soltanto lo spettacolo insomma che si decide di andare a vedere ma può essere anche una cosa relativa al libro evento che esce nella settimana piuttosto che una proposta legata al food o al bere bene insomma tutto può essere un evento con questo è considerato un evento nella vita di ognuno di ognuno di noi poi ovviamente molto ci aiuterà lo spirito con cui affrontiamo queste cose ognuno nel suo insomma l'entusiasmo non manca a noi sicuramente e con questa proposta ma cerchiamo anche di invogliare gli altri ad affrontare la settimana con una giusta energia ecco bene allora si inizia oggi dalle 17 alle 18 tutti sintonizzati per questo programma condotto da Sabrina Morea 120 inizia appunto oggi lunedì alle 17 tutti lì mi raccomando e un grande in bocca al lupo grazie Marina grazie a tutti voi e ci vediamo il caso di dirlo oggi pomeriggio dalle 17 esatto va bene un abbraccio grazie ciao bentornati bentornati buongiorno questo è Buongiorno Taranto di Buon Mattino con Marina Luzzi Peppe Candelli e Gisberto Nicoletti e diamo il benvenuto adesso a Maria Salonna presidente del comitato Società Benefit di Teleperformance Italia perché con lei parliamo proprio di Teleperformance che è diventata una società Benefit Buongiorno bentrovata buongiorno bentrovati grazie per essere con noi la prima domanda che mi viene in mente è questa cosa cosa cambia concretamente poi nella trasformazione di un'impresa così importante con un numero di dipendenti importante quando diventa una società Benefit e insomma quindi questa è la prima è la prima suggestione l'altra è cosa ha spinto poi l'azienda a intraprendere questo tipo di percorso ok allora innanzitutto posso dire che cosa è cambiato allora noi già da anni siamo un'azienda in cambiamento il diventare una società Benefit che proprio l'appunto siamo diventati ci siamo trasformati diciamo nel mese scorso ha contribuito a integrare nel nostro modello di business la responsabilità sociale e ambientale cosa vuol dire questo questo vuol dire per noi aumentare quindi ad operare in maniera responsabile in maniera sostenibile e soprattutto essere trasparenti con le persone con la comunità e con il territorio di cui siamo circondati dove lavoriamo perché l'azienda ha fatto questo passo allora innanzitutto proprio perché il nostro obiettivo è migliorare il benessere delle persone non solo delle persone stesse ma anche nell'ambiente creare degli impatti positivi nell'ambiente per la quale lavoriamo quindi la comunità il territorio diciamo che con questa modifica sono state fatte due importanti modifiche allo statuto sì quali sono queste modifiche un po' le ho anticipate allora una soprattutto è quella di migliorare il benessere appunto delle persone e cercare di diffonderlo nel contesto nel territorio in cui viviamo e valorizzare l'inclusione la diversità l'equità un altro aspetto importante è investire nella ricerca e sviluppo e nella digitalizzazione anche qui l'azienda investe parecchio proprio per cercare di diffondere e creare impatti positivi in tutto quello che ci circonda quindi non solo le persone ma anche l'ambiente e il territorio e la comunità lei è anche manager delle risorse umane da molto tempo da vent'anni per teleperformance come è cambiato anche il modo di lavorare in teleperformance e la valorizzazione che viene data alle persone cioè questa della società benefit mi sembra essere diciamo mi sembra essere l'ultimo tassello di un percorso però lungo in questo senso di valorizzazione della personale assolutamente sì allora come diceva io è da vent'anni che lavoro in teleperformance e comunque ho visto una serie di cambiamenti diciamo che gli ultimi anni ci vede ha visto proprio un cambiamento notevole del management di tutti noi perché adesso vengono valorizzate le persone vengono ascoltate ed è quindi questo nuovo modo di interagire con tutte le persone ha fatto sì che ogni singola persona dall'alto al basso tutte contribuiscono a questo diciamo questo cambiamento e basti pensare che per quattro anni consecutivi siamo graceless work e quindi questo che cosa vuol dire vuol dire confermare diciamo questo cambiamento nel valorizzare le persone quindi ascoltarle bene noi siamo comunque ha contribuito ad aumentare l'attaccamento delle persone all'azienda il senso proprio di appartenenza all'azienda bene noi siamo in conclusione io insomma ovviamente le faccio l'in bocca al lupo per questo ruolo insomma di presidenza di questo comitato società benefit di Teleperformance Italia perché immagino sia molto stimolante e ovviamente continueremo a raccontarvi di quello che accade all'interno di Teleperformance anche nella nostra trasmissione mensile che facciamo direttamente da lì come sapete con la nostra Anette e la sua partecipiamo grazie per essere stata con noi intanto Maria Solonna e buon lavoro buon inizio settimana grazie a voi grazie a voi e buon lavoro a tutti grazie e chiudiamo così questo nostro appuntamento del lunedì con Buongiorno Taranto di Buon Mattino grazie da Marina Luzzi grazie a Peppe Candelli e a Gisberto Nicoletti noi ci ritroviamo come sempre domattina in diretta grazie per essere stati con noi fate i bravi a Gisberto Nicoletti a Gisberto Nicoletti a Gisberto Nicoletti a Gisberto Nicoletti a Gisberto Nicoletti